Allora, questo signore Vita abbiamo già intervistato prima, Negrini, responsabile del palio di Ferrara, che la rappresenta, poi abbiamo tre capitani, questo in particolare è molto interessante, molto interessante questa vita, perché di via, scusate che questo videovino non si sente al giù, mi dica a lei chi è, si presenti, nome, cognome, Campi Francesca, capitana di Santo Spirito di Ferrara. Ah, vedi la vita perché questo è interessante, questo è interessante perché è arrivato con il cerchio in mano? Eh, sono cose che capitano, insomma, scelta, è il palio, diciamo che è il palio. Ah, diciamo che questa è una scelta ogni mese, no? Sì, sì, assolutamente. Naturalmente scherzo. Però, come è andata a finire questa storia? Puoi non dichiarare la messa? No, no, ognuno è libero di fare le sue scelte ed è giusto che uno le prenda nel rispetto delle parti, in modo tranquillo, si va avanti e... Cavallo dievolo. Sì, esatto. Fantino vediamo. E' pronto o l'ha scritto? Bulas, Punzu? Io ti rispondo Mereu. No, con Cam adesso si farà la valutazione migliore senza fretta per comunque tentare di vincere il palio. L'obiettivo non cambia, insomma. Cavallo, c'è il palio. L'anno scorso? Quello è stato il punto fermo, quello è stato il punto fermo, quello è stato il punto fermo fin dall'inizio. Quindi... Una caraventina a brontolo, sulla mosso, diciamo? No, al momento no, ancora no. Ancora no. Più avanti, magari più avanti sì. Ancora no. Ma io non lo posso perché è giusto. Ma per incontrare dopo l'anno presto a questa... In modo molto sereno, tranquillo. Ci hanno infiducia in tutto il gruppo a stallo. Sì, 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 molto tranquillo. Siamo una contrada molto unita. Bene o sì, perché almeno abbiamo un modo di lavorare. Assolutamente. La serenità prima di tutto. Grazie. Niente.